Ah ok, allora passami, spostiamo il cavaliere. Penso di sì, aveva fatto la prova prima. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Cominciamo, se ci possiamo accomodare. Vi ringrazio davvero per essere qui oggi. È una tappa importante di un percorso che per quanto riguarda cittadinanza attiva, ma anche tanti interlocutori e amici che abbiamo poi incontrato per strada nelle varie tappe di questo cammino. È importante perché segna un punto in un impegno che come cittadinanza attiva, come organizzazione risale davvero abbastanza indietro nel tempo. Ormai a qualche anno fa abbiamo cominciato a occuparci di maculopatie, soprattutto in termini di appropriatezza nelle prescrizioni. Però abbiamo capito nel corso del tempo che su questa questione, su questo tema andava utilizzato un approccio integrato che tenesse conto di tutti gli aspetti che si correlano alla patologia. È una patologia sempre più diffusa nel nostro paese, sempre più impattante e che occorresse appunto una logica di integrazione anche nel trattarla. Per questo arriviamo oggi alla stesura di questa roadmap, che è una roadmap ricca, complessa, in 16 punti. Come in altre esperienze che cittadinanza attiva ha, alcuni di questi punti sembrano un po' visionari nel momento in cui li si mette su carta, un po' lontani dalla pratica e dall'operatività. Ma con l'aiuto di tutti e la presenza di tanti di voi, il lavoro che si è fatto insieme e che oggi sarà rappresentato anche dagli interventi della tavola rotonda, sappiamo che ha delle possibilità concrete di realizzarsi in tutti i suoi punti. Quindi consideriamo questa roadmap che oggi verrà presentata ovviamente come un punto di partenza e non un punto d'arrivo, ma anche come una traccia strutturata che ci permette di andare nella giusta direzione e soprattutto di andare nella direzione dell'equità, che poi è una delle direzioni che come cittadinanza attiva privilegiamo, come sapete. Cioè fare in modo che i cittadini abbiano cure adeguate in qualunque parte del territorio vivano, secondo standard e criteri comuni, la vera sfida anche di questi tempi. Una cosa, prima di lasciare la parola ad Amelia Parente di Roche che da sempre ci affianca anche in questo percorso, una cosa volevo sottolinearle. Il tema delle maculopatie rientra in un programma di azione e anche di impegno, di attivazione che noi stiamo facendo come cittadinanza attiva sul tema della non autosufficienza. Impatta moltissimo il tema della non autosufficienza, un tema in crescita purtroppo, con una anche buona riforma che si sta disegnando in questo momento con un decreto attuativo molto critico che l'accompagna su cui stiamo intervenendo, ma insomma per dire che questo tema si inserisce in un'attenzione anche più generale che noi abbiamo verso i cittadini non autosufficienti e verso le loro famiglie e verso i caregiver familiari che spesso sono per loro ovviamente l'unica fonte di supporto. E' un tema che quindi ha un risvolto sociale oltre che sanitario molto importante ed è uno degli aspetti per cui in qualche modo in maniera continuativa lo abbiamo preso a cuore e ce ne siamo occupati. Allora, avremo delle inversioni rispetto alla scaletta perché c'è bisogno di… Non è continuata ma sappiamo che stanno per arrivare l'onorevole Rosso e il senatore Satta che costituiscono poi insieme questo fronte, questo intergruppo parlamentare che si è costituito sul tema della prevenzione e della cura delle malattie degli occhi che è un altro riferimento che noi abbiamo nell'avanzamento di questo lavoro. Allora io lascio la parola ad Amelia Parente e per Roche ci farà un saluto, ci spiegherà anche il senso di questa collaborazione con Cittadinanza Attiva, almeno dal vostro punto di vista, insomma dal nostro è una collaborazione continuativa di cui siamo molto contenti e onorati e poi invece Simona Luizzo ci farà, l'onorevole Luizzo ci farà un saluto e potrà rimanere con noi qualche giorno. Annalisa Grazia, io do il benvenuto a tutti i presenti, oggi rappresento Roche, sono il Roche responsabile delle malattie rare, delle relazioni istituzionali e della trasformazione e oggi in questo benvenuto a tutti volevo tratteggiare i tre punti salienti che originano la motivazione di Roche per questa bella collaborazione che come diceva la dottoressa Mandorino è una collaborazione longeva nel tempo. Allora tre ordini di ragioni e spero di essere sufficientemente sintetica e incisiva nel proporvele. Allora la prima è che le maculopatie rappresentano evidentemente un'emergenza nazionale, un'emergenza della sanità. I dati demografici di questo paese sono dei dati demografici che tutti conosciamo, il 30% della nostra popolazione attuale è over 65 e quindi il tema dell'invecchiamento della popolazione e della senescenza porza con sé tutta una serie di fabbisogni sanitari che non possono e non devono essere trascurati. Perché lo specchio della nostra popolazione è uno specchio ad oggi che sia attualmente che prospetticamente ci pone con urgenza il tema delle cronicità e le maculopatie rientrano in questa riflessione. Quindi prima ragione emergenza nazionale. Seconda ragione è di mettere a disposizione al maggior numero di pazienti possibile nel minor tempo possibile l'innovazione che Roche porta. Roche come immagino sappiate è il primo investitore in termini di ricerca e sviluppo al mondo. Solamente nel 2023 ha investito a livello globale più di 14 miliardi e di questi 46 milioni sono investiti in ricerca in Italia. Quindi il grandissimo sforzo della compagnia che rappresenta in ricerca e sviluppo e dunque il faticoso sforzo di addivenire poi a delle soluzioni terapeutiche riclama anche l'urgenza di metterle quanto più possibile in maniera tempestiva a disposizione dei pazienti e dei pazienti italiani in particolare. Il terzo motivo è un motivo diciamo più di visione del mondo che è una visione del mondo che condividiamo con cittadinanza attiva e cioè il nostro desiderio di fare sistema sulla sanità per coglierne e affrontarne le sfide. Per noi fare sistema significa dialogare in maniera costruttiva e prospettica con tutti quanti gli interlocutori e gli stakeholder della sanità e in particolare oggi ci confrontiamo con il tema delle maculopatie e quindi accogliamo, abbiamo accolto con grande plauso uno sforzo appunto longevo di cittadinanza attiva di voler mettere intorno al tavolo tutta una serie di soggetti che sono non solo portatori di interessi ma portatori di competenze. Quindi la parte clinica, le società scientifiche, i pazienti e le loro associazioni, l'accademia, i cittadini. Quindi è parte della nostra filosofia un dialogo che è un dialogo a 360 gradi attualmente e prospetticamente per risolvere le sfide che sono le sfide cogenti che il nostro sistema ci propone. Ed è dunque nel rispetto di questa filosofia e della capacità anche che insieme, collaborativamente, abbiamo avuto di costruire una comunità coesa che siamo speranzosi del fatto che le istituzioni che ringrazio e che oggi sono presenti possono accogliere questo dialogo in logica prospettica e sempre più accogliente delle istanze di tutti. Grazie mille. Ringrazio la dottoressa Parente e soprattutto per quest'ultimo spunto perché il risultato più concreto di questo lavoro fino ad oggi è proprio quello di aver creato una comunità di interlocutori che a questo tema sono attenti, sono attenti alle sue ricadute in termini di prevenzione, di equità e di accesso, di facilità di accesso su tutto il territorio nazionale. Sono interlocutori legati al mondo scientifico, al mondo dell'associazionismo, clinici e quindi insomma un po' fedeli alla nostra prospettiva che è una prospettiva di facilitazione e di integrazione dei punti di vista abbiamo operato anche in questa circostanza. Dovrebbe essere collegata l'onorevole Simona Luizzo che è presidente dell'intergruppo parlamentare Sanità Digitale e Terapie Digitali e componente della dodicesima commissione permanente affari sociali della Camera dei Deputati. La ringraziamo del suo intervento. Sì, buongiorno a tutti, sono in aero e devo partire però mi devo dare il mio contributo. Prima di partire sono in aero quindi dovrò interrompermi rapidamente. Era solo per dire che come presidente dell'intergruppo di Sanità Digitale e parlamentare volevo sottolineare l'importanza delle maculofatie di dispositivi da remoto. Oggi ci sono dei dispositivi che consentono nell'ottica della medicina di prossimità di effettuare città da remoto. Quindi volevo sottolineare come intervisto di Sanità Digitale sarò con voi nel prevedere tutto un dettato parlamentare sugli ausili da remoto anche per applicare tutti quei dettami della medicina di prossimità nella prevenzione delle maculofatie e quindi del monitoraggio delle stesse anche a distanza. Devo purtroppo abbandonarvi, un caro saluto a tutti. Grazie onorevole, buon volo. Ci ricorda già, ci ha portato già in uno dei temi che poi questa roadmap in 16 punti affronta che è appunto la questione della telemedicina, della sanità digitale, dell'apporto che le nuove tecnologie e l'innovazione potranno dare anche alla cura delle maculopatie. Come sapete è un tema estremamente di attualità e dibattuto e speriamo anche su questo di poter dare un nostro contributo. Allora, come vi dicevo, dobbiamo invertire un po' la scaletta. Quindi lascerò ora a Isabella il compito di illustrare i contenuti della roadmap ma chiedo a Tiziana di darmi il cambio perché poi ci sarà la possibilità di moderare così la tavola rotonda. Tu puoi stare se vuoi. Intanto buongiorno a tutti, anche da parte mia, grazie di essere intervenuti. Siamo molto contenti oggi, come diceva appunto Annalisa Mandorino, di poter parlare finalmente della roadmap, del nostro lavoro, che è un lavoro che è partito alcuni mesi fa, forse quasi un anno fa circa. È un lavoro che ha visto nel corso dell'opera tante cose esterne, di cui siamo molto contenti, nel senso che nel frattempo si è costituito l'intergruppo parlamentare, di cui parlavamo poco anzi e appunto a breve arriveranno i co-presidenti dell'intergruppo. Ha visto la luce e sembra che adesso l'iter sia avviato un disegno di legge proprio sulle maculopatie che ci sembra assolutamente sovrapponibile in tanti punti a quello che è lo scenario che abbiamo delineato con la nostra roadmap. Quindi in qualche modo siamo contenti anche di aver contribuito con questo tavolo, con questo gruppo di lavoro, come diceva poco anzi la dottoressa parente, che è davvero composto da tanti stakeholder che rappresentano tutte le anime e i soggetti che in qualche modo debbono dire la loro sul tema delle maculopatie. Ora vi illustrerò insomma un po' il lavoro. In premessa non aggiungo altro a quanto è stato detto da Annalisa e dalla dottoressa parente, se non che appunto la maculopatia è un'emergenza in questo momento, durante il Covid i pazienti maculopatici sono stati tra quelli che hanno sofferto tantissimo, non sono potuti recarsi in ospedale, quindi sul tema delle liste d'attesa e anche sul fatto che comunque è stata interrotta la terapia. Cittadinanza Attiva si occupa di maculopatia e ha deciso di occuparsene accendendo un focus, come dicevamo prima già da alcuni anni, in primis perché anche gli stessi cittadini dal nostro punto di vista ad oggi non hanno piena consapevolezza di quanto possa incidere questa malattia e di quanto sia importante conoscerla per potersi attivare con degli screening e con la prevenzione per tempo e poi anche perché ovviamente abbiamo detto che c'è un disegno di legge ma l'ITER ancora non è completato e quindi la situazione che troviamo sul territorio nazionale è sicuramente una situazione assolutamente disomogenea dove in alcune regioni ci sono dei provvedimenti normativi, ci sono dei PDA molto rari devo dire sul paziente dedicati appunto alla maculopatia ma sicuramente c'è una grande situazione di diseguaglianza e disomogeneità su tutto il territorio nazionale. Quindi abbiamo deciso di occuparsene tra l'altro affinché al paziente maculopatico siano riconosciuti dei diritti che sulla carta daremmo per scontati ma per scontati non sono assolutamente quali appunto il diritto all'informazione, il diritto alla prevenzione, è un tema caldissimo qui teniamo molto anche in altri ambiti ma anche in particolare relativamente alle maculopatie all'accesso uniforme e personalizzato alle cure e anche il diritto ad utilizzare anche cure non solo personalizzate ma anche innovative, l'utilizzo della telemedicina, l'onorevole Loizzo insomma ha fatto un saluto ma in altre occasioni ha approfondito molto questo tema di quanto la telemedicina possa essere poi utilizzata e dare un supporto al paziente maculopatico e a tutta la rete chiaramente degli specialisti che ruotano intorno e soprattutto e questo in qualche modo speriamo di aver raggiunto questo piccolo obiettivo ci siamo adoperati affinché si consolidi come dicevamo prima una rete di stakeholder che sia quanto più ampia possibile e che insieme lavorino appunto su questo tema però vi volevo far vedere quelle che sono le segnalazioni che Cittadinanza Attiva negli ultimi anni riceve relativamente al tema di disagi, di servizi e criticità che patiscono i pazienti maculopatici ma anche evidentemente poi i caregiver perché come diceva Annalisa Mandorino all'inizio ricordiamoci che laddove c'è un paziente maculopatico almeno nelle forme più gravi c'è un caregiver e il paziente maculopatico è un paziente spesso anziano che vive anche nelle aree interne del nostro paese spesso e volentieri non va a fare le punture nell'occhio perché non ha nessuno che lo può accompagnare ed è disaggevole raggiungere i centri quindi noi riceviamo delle segnalazioni, siamo presenti su tutto il territorio nazionale e appunto come vi dicevo prima sicuramente ciò che emerge è la grandissima disomogeneità di accesso in primis quindi i pazienti lamentano liste d'attesa per l'accesso alle cure lamentano diagnosi tardivi e ritardi prima che sia iniziato il trattamento farmacologico questo perché? Perché come dicevamo prima spesso manca il raccordo tra il medico di base gli specialisti che lo hanno in cura e c'è ancora una scarsa conoscenza di questa malattia e le stesse persone tendono a sottovalutare magari dei disturbi quindi per questo è importantissimo che invece la diagnosi di contro sia assolutamente precoce questi lavori sugli screening. L'interruzione delle cure, la discontinuità perché spesso le cure non sono personalizzate quindi per i motivi che dicevamo prima il paziente anziano che deve fare per esempio un tot di infusioni non riesce ad essere continuo oppure di contro c'è il problema delle liste d'attesa, del mancato rispetto dei tempi quindi sono diverse le motivazioni. La mancata personalizzazione delle cure e anche la scarsa presa in carico del paziente e l'assenza del raccordo tra i vari specialisti e poi in generale riceviamo moltissime segnalazioni relative a delle informazioni che proprio ci chiedono i pazienti ma anche i propri caregiver in merito a tutta una serie di diritti tuteli che vorrebbero avere attivati che vorrebbero sapere se esistono o meno e che appunto non si reperiscono molto facilmente per esempio sui siti regionali e in altre fonti ufficiali. quindi il progetto ha avuto come frutto del lavoro di questi mesi la stesura di una road map che abbiamo proprio immaginato il percorso di gestione e di cure appropriate e personalizzata della persona affetta da maculopatia e in termini di accesso ovviamente di prevenzione di diagnosi precoce e di presa in carico e strategia terapeutica. Vedete qui un QR code perché diciamo a quel QR code scaricandolo c'era anche sulle locandine che abbiamo visto qui all'ingresso è possibile scaricare appunto la road map completa. Poi è presente sul nostro sito da queste ore insomma quindi c'è anche una pagina di progetto dedicata. E questo è un elenco lunghissimo non vi leggo i singoli nomi però ringrazio davvero di cuore tutti coloro che hanno partecipato al nostro tavolo di lavoro grazie al lavoro dei diversi stakeholder dei diversi punti di vista delle diverse posizioni eh anche eh diciamo visioni di carattere più regionale nazionale eh chi è una società scientifica i pazienti e quant'altro abbiamo potuto davvero arricchire il nostro lavoro molti eh dei partecipanti al tavolo di lavoro interverranno nella seconda parte eh evidentemente per necessità di spazio e di tempo non abbiamo potuto invitare tutti però io ancora una volta davvero ringrazio tutti coloro che si sono eh che ci hanno aiutato e che insieme a noi hanno fatto questo questo pezzo di strada insieme che come diceva Annalisa Mandorino è solo l'inizio perché la road map ovviamente è il punto di partenza e non è certo l'arrivo perché poi dobbiamo eh lottare per ottenere che questo avvenga avvenga realmente che questi punti siano appunto esigibili. La road map definisce sedici punti eh che sono eh divisi in tre aree fondamentale che abbiamo ritenuto proprio i punti cardine no? Del percorso che è eh il il punto iniziale che è quello della diagnosi il punto dell'appropriatezza e aderenza terapeutica e poi quella evidentemente dell'organizzazione sanitaria territoriale da cui non possiamo ovviamente prescindere. Non vi starò chiaramente a leggere tutti i sedici punti della road map che potete trovare evidenzio però appunto che nel primo blocco in quello eh relativo alla diagnosi è eh fondamentale eh non soltanto la diagnosi precoce precoce una rapida presa in carico ma voglio sottolineare in particolare il tema degli screening oggi in molte regioni che noi consideriamo delle regioni d'eccellenza vedo che è arrivato adesso il professor Nicolò tipo la Liguria sistematicamente anche con il supporto poi eh delle associazioni ci sono dei programmi di screening sulle maculopatie ma noi vogliamo che si faccia in tutte le regioni e che non ci siano disparità eh tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Certo il disegno di legge prevede un programma del genere su scala nazionale e noi auspichiamo che sia eh quanto prima approvata però è indispensabile che anche nelle singole regioni intanto si avvino questi programmi e eh e poi un altro punto fondamentale è quello di ehm prevedere dei sistemi di raccordo a trecentosessanta gradi della persona eh non lavorare per eh silos ma piuttosto prendere in carico la persona con tutte le sue esigenze e prenderlo in carico con tutti gli eh specialisti e in tutti i suoi aspetti non soltanto sanitari ma anche sociali questo è fondamentale in merito all'appropriatezza eh terapeutica a primo punto vedete favorire la libertà prescrittiva del clinico in termini di terapia adeguate bisogni di salute della persona che quindi le scelte non siano vincolate come è accaduto in passato a scelte di carattere economico imposte da da dalle regioni ma piuttosto eh scelte che siano lasciate esclusivamente al clinico che sa qual è la terapia il percorso più adatto eh per il paziente solo lui può può saperlo non altri e e ovviamente favorire i trattamenti che siano personalizzati e l'utilizzo della telemedicina e infine per quanto riguarda l'organizzazione territoriale ehm prevedere che sul territorio oltre agli ospedali siano presenti eh delle strutture dedicate e riorganizzare e ottimizzare le strutture già esistenti e eh anche su questo diciamo c'è poco a poco c'è scarsa informazione eh un paziente che riceve una prima diagnosi di eh maculopatia fatica anche a sapere quali sono i centri che possono prenderli in carico qual è il percorso che deve avviare da quel momento quindi fondamentale prevedere eh il raccordo tra queste strutture e soprattutto poi prevedere delle modalità affinché il cittadino sia facilizza facilitato ed indirizzato nel modo giusto e mh tra i punti vedete l'inserimento dei lea regionali è chiaro che noi auspichiamo che eh le maculopatie vengano eh vengano approvate come lea di carattere eh nazionale però eh anche qui in alcune regioni ci sono dei lea eh già dedicati alle maculopatie quindi quantomeno in attesa che ci sia la possibilità di accedere in maniera omogenea su tutto il territorio quantomeno auspichiamo che si implementino eh questi regionali e ehm e basta diciamo come poi avrete modo di leggere i vari punti insomma se già non non lo avete fatto il prossimo obiettivo però invece ci tengo molto a sottolinearlo eh diciamo che eh dal nostro punto di vista eh il prossimo obiettivo da raggiungere in un futuro anche abbastanza prossimo e per questo chiaramente abbiamo bisogno di tutte le associazioni ma anche dell'intergruppo eh parlamentare che ci faciliti in questo è quello di eh far sì che le maculopatie eh siano eh riconosciute come patologie croniche perché da qui eh con il conseguenziale inserimento nel piano nazionale della cronicità dopo ne derivano tutta una serie di diritti per loro e eh per i loro caregiver. Quindi io vi lascio con una domanda a che punto siamo eh che evidentemente alla quale non non rispondo io ma risponderanno gli autorevolissimi interlocutori che di qui a breve interverranno. Allora grazie Isabella nel frattempo prima di eh dare inizio alla la tavola rotonda è arrivato l'onorevole Matteo ehm Rosso che è il co-presidente dell'intergruppo parlamentare prevenzione e cura delle malattie degli occhi e componente della dodicesima commissione affari sociali presso la Camera dei Deputati. Quindi eh grazie intanto grazie. Prego. Prego. Si le giro subito la domanda a che punto siamo? Cosa sta facendo l'intergruppo per prevenire in qualche modo le malattie oculari? Tanto grazie davvero e la prima cosa che ci tengo a dire è che io sono un medico il che mi permette di avere anche una visione un po' più un po' più diciamo competente mi permetto di dire di questa patologia. Sono venuto questa mattina con il professor Massimo Nicolò che è il coordinatore scientifico dell'intergruppo che l'abbiamo pensato insieme a Massimo Ligustro e ehm io devo dire che quindici anni fa più o meno il professor Nicolò cominciò a battere in Liguria. Siamo due Liguri sulla maculopatia quando non se ne parlava tanto. Noi in Liguria ovviamente è una regione molto anziana la si sentiva ma era proprio sottovalutata mi permetto di dire. E allora eh batti ribatti abbiamo cominciato a fare insieme delle giravamo nei vari comuni e facciamo delle piccole conferenze una parola grossa ma dei piccoli dei piccoli incontri per cercare di far capire l'importanza della prevenzione perché la prevenzione è che l'arma nella sanità ma in particolare in questa patologia era completamente sottovalutata. Direi che nella nostra regione siamo riusciti a fare qualcosa e probabilmente sicuramente anche nelle altre così io conoscevo meglio la mia. Poi quando sono arrivato al Parlamento eh io nel mio piccolissimo sono responsabile della sanità del partito eh di Fratellità di cui faccio parte ci siamo messi delle priorità davanti tra cui se c'era anche proprio le malattie degli occhi perché bisogna vedere anche nel loro complesso non soltanto la malattia ma la malattia degli occhi e abbiamo creato insieme a Giovanni Satta che adesso penso che stia votando ma arriva perché ci teneva molto eh anche lui medico anche lui oculista eh questo intergruppo e sì e il professor Nicolò lo sta dedicando moltissimo grazie anche a voi alla eh e vi ringrazio davvero grazie la ricorda. Sto facendo qualche problema a intercettarci non so per quale ragione mi mi sono detto mi hanno chiamato ieri anche dal ministero non riuscivate a trovarmi ma io ho un cellulare sempre ecco perché io ho un cellulare sempre io ho detto guardate a me non mi ha cercato nessuno però può darsi che poi ci cambiamo i cellulari e vi facciamo confermare e allora l'idea è quella di investire moltissimo nel progetto nei progetti sulle maculovatie Giovanni Satta quando arriva vi racconta anche del disegno di legge non è da poco un disegno di legge su una singola patologia perché le patologie parlo da mi dico sono tantissime e eppure questa su questa Giovanni Satta ha fatto un disegno di legge che poi arriverà alla Camera è stato ha avuto degli emendamenti al Senato tornerà alla Camera quindi su certe cose se vogliamo le possiamo rifinire in commissione però ecco questo è un segnale molto importante poi sta a voi anche darci delle indicazioni di quello che hai io guardo Massimo Nicolò che là in fondo con cui facciamo tante cose ma incentivateci il bello di una squadra che si lavora tutti insieme secondo me non c'è uno che sa più degli altri ognuno fa la sua parte secondo me e questa è la cosa bella per cui io ci sono quando volete basta un colpo di telefono un messaggio che altro e sono a disposizione grazie mille allora adesso che abbiamo creato questa questa comunicazione diretta sicuramente non non mancherà da parte nostra quindi non so se questo sarà per lei una cosa positivo meno però chi fa politica io vengo con orgoglio ve lo dico dalla prima repubblica ognuno la pensi come vuole dove la politica si faceva vicino alle persone io quando dico sempre sono un deputato io qua sono uno qualunque ma sono un deputato del mio territorio sia chi fa politica deve essere aperto e disponibile gentile stringere la mano educazione se non è meglio che faccia dell'altro quello la anche la squadra che mi segue a questi principi per cui infatti quando mi chiamano dal ministero mi dicono ti stanno cercando ma guarda io a me non mi ha cercato nessuno sul mio cellulare poi però ce lo scambiamo di nuovo e ci sarà un numero io ho già dato la conferma comunque sono nicolò da dieci giorni dieci giorni quindi grazie intanto per per la passione con la quale ci ha raccontato anche il suo impegno e ci auguriamo che questa sensibilità che avete avuto voi col professor nicolò da tantissimi anni insieme al nostro amico massimo possa proseguire anche su tutto il territorio ogni tanto va fermato ecco bene allora adesso grazie ancora sì sì no ci mancherebbe io mi siedo là dietro non volete quelli che offrono gli spazi stanno al tavolo per forza di cose grazie allora a questo punto anche io mi mi sposto e così diamo inizio alla seconda parte del del nostro incontro quindi chiamerò adesso dall'altra postazione i nostri ospiti allora intanto chiamerei il professor nicolò che si può accomodare massimo ligustro danilo mazzacane luca menabuoni scipione rossi allora abbiamo anche eh collegati dovremmo avere collegati a un anche la dottoressa andrau il professor midena e il professor bandello quindi eh prima io li ho visti che erano collegati mi auguro che siano rimasti ancora lì eh ad ascoltare allora intanto io eh ci terrei a ringraziare tutti i nostri ospiti perché sono stati i nostri compagni di viaggio da quando abbiamo iniziato ad occuparci di questo tema abbiamo e nostra eh abitudine lavorare eh a stretto contatto con diversi stakeholder quindi come abbiamo detto prima abbiamo cercato di coinvolgere le società scientifiche eh i professionisti che quotidianamente incontrano e lavorano a fianco dei nostri eh pazienti le associazioni dei pazienti senza le quali non sarebbe possibile capire quello che è l'effettivo bisogno di salute dal quale partire allora io eh inizierei subito con il professor Nicolò che è responsabile centro retina medica maculopatie e uveiti ospedale policlinico di San San Martino nonché come è stato detto prima il coordinatore scientifico dell'intergruppo parlamentare prevenzione e cura delle malattie degli occhi allora professore secondo le sue esperienze tra le variazioni che abbiamo indicato all'interno della nostra roadmap eh alla quale ha lavorato anche lei insieme a noi qual è la più significativa se ce n'è una o più di una è quella di immediata realizzazione ad oggi sul territorio nazionale buongiorno a tutti e e grazie a cittadinanza attiva perché eh devo dire che cittadinanza attiva sono anni che in tempi non sospetti è iniziato questa eh avventura e questa battaglia enorme per un diritto di tutti eh i pazienti maculopatici e mh quando ancora appunto di maculopatie se ne parlava veramente poco troppo poco e oggi io credo che il merito di questa roadmap eh sia proprio quello di essere qui tutti riuniti perché non è cosa da poco guardate eh essere oggi con eh le associazioni di pazienti eh i cattedratici i primari ospedalieri tutti i dirigenti ospedalieri è una un risultato epocale soprattutto soprattutto tenendo conto che eh in divenire ma veramente nei nelle prossime settimane eh avremo finalmente una legge che eh porterà avanti tante istanze eh tante domande che i nostri pazienti con malattie cronico degenerative e in particolare con maculopatie così anche come otticopatie come glaucoma per esempio eh ci stanno facendo da tempo eh le esenzioni, i LEA, i percorsi diagnostico terapeutici, il diritto a una cura farmacologica eh diciamo che abbia delle basi scientifiche solide e non eh come purtroppo spesso accade un po' così raffazzonata e mi fermo qui eh per cui questo è veramente un risultato e eh il merito di questo roadmap eh è è proprio questa questa capacità coagulativa eh tutta intorno a questo tema che poi alla fine il il bisogno fondamentale che tutti i cittadini ci stanno chiedendo quindi la collaborazione tra il mondo delle associazioni, il mondo del della diciamo medico e anche il mondo delle delle aziende perché non dobbiamo dimenticare che anche le aziende giocano un ruolo importante. Tutto è trainante per portare alla eh sensibilizzazione delle istituzioni e mi sembra che ci stiamo riuscendo perché insomma avere un bisogno di legge eh è dedicato è una cosa è una cosa molto importante per eh favorire eh e per prevenire e curare meglio eh questo mondo eh di eh di persone che poi potremmo essere qualsiasi eh ognuno di noi può un domani essere colpito dalla dalla maculopatia o da qualche forma di retinopatia o di malattia cronico degenerativa degli occhi per cui sono argomenti che poi ci possono toccare a tutti per cui per cui qui abbiamo abbiamo Massimo Legustro con lui con lui c'è siamo ci siamo conosciuti chiaramente da paziente e da medico ma poi come spesso succede grazie Matteo Rosso ma poi come spesso succede con le malattie con questo tipo di malattie che sono malattie croniche perché questa è la cosa importante da da spiegare che sono malattie croniche noi pazienti ce li sposiamo io l'ugusto non me lo sono sposato ma è diventato ma è diventato mio amico ma è diventato è diventato mio amico e lui ha avuto l'idea di portare avanti e devo dire questa è stata un'idea eh prima è inutile starcelo eh a dire che associazione di pazienti eh che è il comitato macula proprio a difesa delle cose ma è soltanto dalla collaborazione dell'associazione dell'associazione di pazienti con i medici che si possono perché altrimenti diventano due canali paralleli che non si incrociano mai non dialogano mai tra di loro quindi il dialogo tra queste realtà eh diverse eh ma comunque importanti e fondamentali grazie professor Riccolò ed effettivamente eh per noi di cittadinanza attiva questo dialogo questo confronto continuo cerchiamo di portarlo avanti da tantissimi anni perché ci siamo resi conto che solo lavorando insieme si può arrivare effettivamente a dei risultati migliori eh e in più devo dire che eh noi abbiamo quando noi abbiamo iniziato a lavorare alla roadmap mi fa piacere vedere che alcuni punti che noi abbiamo individuato come fondamentali o proposte azioni utili da mettere in pratica sono state poi riprese all'interno dell'intergruppo quindi eh diciamo che abbiamo visto lungo su questi su questi punti eh allora eh dovrebbe esserci adesso eh il professor Midena segretario generale della società italiana della retina mi date conferma altrimenti io vado avanti ok un po' di pazienza così eccolo qua mi sentite certo la sentiamo benissimo grazie buongiorno per aver accettato il nostro invito allora eh il professor Niccolò ha parlato dell'importanza di fare rete quindi eh in un in virtù proprio della multidisciplinarietà e della multiprofessionalità chiedo a lei quanto è importante lo screening lo screening per prevenire e eh per verificare e la correlazione con altre patologie quali ad esempio il diabete eh intanto buongiorno ringrazio dell'invito ricordo solo che eh sono in eh accanto al cittadinanza attiva questo suo progetto vorrei dire sì dall'inizio perché eh il signor Ligustro ricorderà che il giorno prima che chiudessero l'Italia a causa del covid eravamo seduti a un torno a un tavolo a discutere di queste cose. Detto questo eh faccio un altro commento permettetemi e poi finisco con la parte più tecnica e lo rivolgo soprattutto all'onorevole Rosso. Il problema di questo eh paese e qui il suo sforzo e lo sforzo dei suoi colleghi del gruppo interparlamentare dovrà essere immane è che eh sfortunatamente tutto ciò che si decide a livello centrale poco spesso poco ha una ricaduta su tutto il territorio nazionale cioè sulle ventuno piccole realtà e quindi sarebbe necessario che uno sforzo non dico contro l'autonomia ma sicuramente per una visione futura migliore nei confronti dei pazienti che non importa se vivono nel Veneto come la mia regione in Liguria come la sua regione in Calabria o in un'altra. Vado allo screening. Lo screening è fondamentale soprattutto in alcune patologie per per due motivi fondamentali. Per quanto riguarda il diabete e il discorso multidisciplinarietà ha due aspetti. Il primo è il rapporto tra eh la la situazione della retina del soggetto e la sua malattia cioè la malattia diabetica ed è questo che lega eh l'oftalmologo o l'esperto di eh esame del fondo dell'occhio mediante necessariamente oggi un sistema di telemedicina e di fotografia il resto è preistoria eh lo lega a coloro che seguono dal punto di vista medico il soggetto perché ha uno scopo primo che è il soggetto e la sua vita perché sembra una stupidaggine ma è una realtà documentata scientificamente ormai da molti anni che la presenza di un danno a livello retinico può condizionare ma adesso passatemi così la brutalità del termine ma lo esplicito la vita del soggetto. L'American Cardiology Association già da molti anni dice che un soggetto è ad alto rischio di evento diabetico è ad alto rischio di evento cardiovascolare anche mortale se ha cinque fattori di rischio. Tra questi cinque fattori di rischio c'è la retinopatia. Quindi è fondamentale per chiunque segue un soggetto diabetico oltre che per il soggetto stesso sapere o no se c'è la complicanza a livello oculare perché questo può condizionare l'approccio alla visione come si vuole dire in termine buono olistica del paziente stesso. Secondo lo screening è fondamentale perché può permettere di abbattere quella specie di mostro che gira per l'Italia che sono le liste d'attesa. Bastano due numeri. Primo su cento soggetti che hanno il diabete 70 fortunatamente non hanno la retinopatia. Ma se noi concepiamo la valutazione e la ricerca della complicanza oculare come diciamo la tradizionale visita oculistica complessa abbiamo intasato tutti i sistemi di prenotazione. Mentre in questo senso lo screening condotto con metodiche di telemedicina permette di eliminare dai cento i settanta che non hanno questo problema permette di eliminarne vorrei dire altri quindici che possono avere la retinopatia dato che comunichiamo all'internista o diabetologo ma che non hanno ulteriormente bisogno dell'oculista e quindi di questi cento ne restano solo quindici che potranno avere il vantaggio che la loro lista di attesa uno degli elementi che abbiamo detto prima crolla in maniera importante. Quindi in particolare nei soggetti cronici con malattia diabetica lo screening è direi non fondamentale è una pestilenza che non venga fatto. Nell'altra forma più diffusa di maculopatia quella degenerativa senile qui dobbiamo essere scientificamente con i piedi un po' più di piombo perché esistono delle opinioni ancora discordanti a livello internazionale anche se si è comunque già deciso che tutto deve avvenire attraverso metodiche di telemedicina e aggiungo io come nella mia esperienza di intelligenza artificiale perché questa parola che viene usata tutti i giorni avambera nella maggior parte dei casi trova in oftalmologia e nello screening perché noi lavoriamo su immagini trova un supporto essenziale vorrei dire essenziale in quanto così è possibile utilizzare in maniera migliore le poche risorse per esempio umane che abbiamo a disposizione. Vi ringrazio. Grazie a lei. Allora io adesso chiamerei l'onorevole Giovanni Satta che è arrivato il senatore perdonatemi co presidente dell'intergruppo parlamentare e prevenzione e la cura delle malattie degli occhi e componente della decima commissione affari sociali. Allora. Ma soprattutto oculista. Esatto buongiorno a tutti. Intanto mi scuso per il ritardo purtroppo vengo dalla Sardegna c'è il ritardo di ieri abbiamo la campagna elettorale che incomme in Sardegna in questi giorni quindi sono giorni un po' complicati sono arrivato così trafelato però ecco ci tenevo a esserci oggi quindi ringrazio tutti quanti per la presenza e per l'invito è un'occasione importante per me perché stiamo mettendo a punto questo disegno di legge e stiamo facendo il sedere di gente nella commissione sanità e lavoro del senato e c'è stato già un ciclo ampio di audizioni dove hanno partecipato le principali società scientifiche di oftalmologie le principali anche associazioni di pazienti c'è stato un apprezzamento pressoché unanime di questo nostro progetto di questo disegno di legge che è un disegno di legge che rappresenta anche per me una pietra miliare in quanto anche oftalmologo mi trovo in questa esperienza di di senatore e vorrevo certamente mettere a punto alcuna una delle principali esigenze dell'oftalmologia e quella di mettere ciò di mettere un pochino d'ordine in quelle che sono le patologie oculari croniche in particolare ovviamente la maculopatia e il glocoma maculopatia che al centro di questo disegno di legge se ne è discusso sono stati presentati diversi emendamenti da parte delle varie dei vari gruppi politici emendamenti che sono emersi mi sentite che sono emersi durante le audizioni in particolare adesso sentivo parlare anzi mi scuso ancora perché non ho sentito tutte le vostre tutta la discussione però parla sentivo parlare di diabete sicuramente il diabete è uno dell'interessamento dei diabetologi la partecipazione dei diabetologi allo screening di queste patologie sicuramente è un elemento essenziale che abbiamo previsto nei emendamenti che sono stati portati dai vari gruppi e anche dei neurologi naturalmente dei cardiologi per cui ci sarà un aspetto multidisciplinare che coinvolgerà i vari componenti della medicina e siamo molto attenti anche a valutare quelli che possono essere gli aspetti delle nuove tecnologie perché sappiamo benissimo quanto è difficile la medicina territoriale quanto ci sia un carico degli ospedali e quanto va da portata la medicina nei territori nei territori che sono spesso dei territori che sono desertificati perché sappiamo bene quanto ci sia una carenza di medici nelle nei territori e lo diciamo lo sforzo che si sta facendo in questo momento è cercare di incentivare i medici a restare nei territori cercare di anche di avere una programmazione diversa per quanto riguarda il personale sanitario quello che stiamo cercando di fare con questo disegno di legge è appunto portare avanti un progetto che possa permettere di avere un percorso di diagnosi precoce di prevenzione di diagnosi precoce e di un percorso di terapia adeguata per quanto riguarda le patologie oculari croniche è una uno sforzo a cui io tengo particolarmente a cui mi sto dedicando e spero di riuscire a portarlo avanti nei termini abbastanza brevi naturalmente col contributo di tutti voi quindi vi ringrazio a tutti quanti e vi auguro a tutti buon lavoro grazie 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 mille e grazie anche per averci raccontato quello che sta succedendo no ovviamente il nostro auspicio è che si possa arrivare ad una uniformità su tutto il territorio quindi la possibilità di accedere su tutto il territorio indipendentemente dal luogo in cui si risiede allora a questo punto io darei la parola a massimo ligustro che è il presidente del comitato macula eh massimo ha il oltre che il punto di vista personale il privilegio di poter rappresentare quello che è il punto di vista dei pazienti coloro che quotidianamente vivono con questa patologia ecco che valore aggiunto potrebbe rappresentare la qualità di vita e l'accesso alle terapie su tutto il territorio nonché il riconoscimento della maculapotia quale una malattia cronica è l'inserimento nei lea buongiorno a tutti tanto il novanta per cento ci conosciamo anche bene dunque ringrazio il professor midena per la citazione e ritengo opportuno evidenziare che era gennaio poi finì a febbraio duemilaventi questo incontro sviluppammo unitamente ad un signore che ora non è qui e il nome comunque Antonio Daudioso e a una signora che invece qui e iniziò da lì il suo grande incubo e Isabella Mori e sviluppammo la prima carta dei diritti del paziente maculopatico dunque prima di quel giorno non vi era nulla e credo che il professor Nicolò che è un caro amico nonché fautore del fatto che sono qui a parlare con voi lo possa dire io cosa vi devo dire la mia associazione è mia io sono malato e io ritengo che ci sono molte cose che non vadano bene e io ho avuto delle esperienze molto negative e sono arrivato poi al professore qui grazie al oggi onorevole ma all'epoca consigliere regionale Matteo Rosso perdonate per me il tempo è importante ed è anche importante se facciamo riunioni serie così tanti soggetti il tempo è una grande risorsa beh io vi parlo del giugno poi a full luglio del 2016 ecco quindi perdonate non voglio ombre e non voglio altro tipo di questioni andai da Matteo Rosso e chiesi aiuto perché ero disperato non sapevo più come curare la mia malattia e il mondo del lavoro gentilmente mi ha detto si accomodi fuori no il mondo del lavoro Rosso grazie a Dio mi ha detto accomoda no gentilmente Rosso mi ha detto accomodati a San Martino infatti sono rimasto là un po' per pigrize però è bravo vedete le cose che non vanno tutti urliamo e tutti rivendichiamo e tutti rappresentiamo un qualche cosa che non va e chiediamo soluzioni allora io preferisco condividere con tutte le eccellenze ognuno è un'eccellenza io va bene ci posso mettere il cuore la causa la malattia la cronicità però ascoltate qui bisogna fare lo scambio didattico le eccellenze il medico e perdonate se parlassimo di una fabbrica bisogna aprire un processo produttivo che riusciamo ad aprirlo perché abbiamo tutto dal progettista a chi cura a chi monta riusciamo a chiudere un ciclo produttivo che perdonate stavolta sostituiamo la parola è la cura e l'ottimizzazione e il costo e quindi forse il risparmio ma certamente perdonate qui la parola cura risalta fuori il giusto risultato l'eccellenza dunque se non è nei lea stiamo maluccio e stiamo maluccio perché perché ai signori tipo il prof che ho accanto e altri che sono qua che te danno perché questa malattia cronica non viene definita quindi è una cataratta scusate la provocazione ma qualcuno mi conosce qui me la lascia fare quindi se avessi l'acutata avessi avuto la cataratta a luglio del 2016 andavo qui da professore buongiorno la cataratta ci vediamo o dentro o fuori o di fianco non lo so gliela faccio off grazie prof stia bene e non sono ancora lì sono ancora lì perché non guarisco o allora se non si prende atto di questa situazione è inutile che io continuo a orlare continuo a dire e gli altri signori che rappresentano altre patologie con tutto il rispetto fanno lo stesso non ci daranno mai le risorse perché perdonate manca la parola che definisca il mio problemuccio la mia non conformità definitela per paragone la spia del cruscotto che da me non si spegne ecco la definisca cronica allora secondo me se la definiamo cronica qualcuno prenderà atto perdonate ad oggi e io non la metto sulla competenza perché poi vi faccio un esempio di vita ad oggi non lo sa l'amministratore se fossimo un condominio di estremi sfigati e malati ma in parte l'italia più o meno lo è cerchi di capire cercate di capire quel signore là non sa quanto mi occorre quanti sono gli interni di quel condominio affetti dall'infiltrazione che a volte quella parola è giusta della maculofatia quindi non sa dedicami la risorsa adesso tiriamo un po' su lo zoom è la risorsa cos'è il farmaco la sala operatoria che quante volte ci torno perché torniamo al discorso originale signore della cataratta non lo vedo più eh ma è fortunato lui cioè io lo invidio profondamente eh però lo vedi una volta e se ne va quanti siamo noi che persistiamo costantemente tutti i bimestri quadrimestri ma lì e allora questi signori devono avere delle risorse non avranno mai le risorse sarà secondo il mio punto di vista scusate gioco di parole fino a quando non verrà affiancata omologata perdonate la parola cronico credo sia giusto se la parola cronico perdonate non viene omologata e non viaggia pari patto alla parola diritti scusate ogni tanto bisogna toccarlo questo tasto che eh non è la divananza e qualcuno qua l'ha capita la battuta i diritti sono un'altra cosa sono figli di necessità chi può prendersi un permesso per accompagnare il signore che è residente lontano perdonate non vede benissimo e qui entriamo anche in una parola che si chiamerebbe perché adesso non voglio speculare su nessun evento di cronaca recente perché mi farei schifo da solo però ascoltate la parola sicurezza ma se non ci vedete un'ammazza il primo problema della sicurezza sarà a vedere bene cosa fate non c'è è assente nella medicina del lavoro e ve lo continuo a dire lo dico ai miei amici lo dico lo sottopongo ai medici lo direi anche ai signori delle istituzioni perché la visita del lavoro non fa vedere un foglio a quadretti che si chiama griglia di amici questo qua capirebbe essere veglia deformati o no vi dico già che siccome non lo vogliono fare è inutile però ogni due anni il lavoratore verrebbe visto da qualcuno l'hanno impostata perché capite la voglia di non fare un'ammazza è molto presente rispetto alla voglia di provare a fare non la metto sulla competenza perché qui ce n'è troppa infatti siamo in un certo posto centralino qui c'è troppa competenza che privacy c'è il signor mario gli fai vedere un foglio a quadretti se li vede deformati il signor mario non te lo dice ok ma il signor mario che esce dalla medicina del lavoro dice all'eventuale medico di famiglia qualora ci sia qualora lo trovi qualora ci possa andare tutti qualora che volete di qua a berlino grazie che deve fare un esame ociti perché forse la maculopatia cosa cambia ve lo dico io un anno e mezzo in quello che vi sto dicendo in questo sistema cambierebbe un anno e mezzo perché oggi il signor mario cosa fa gira si accorge di non veder bene la prima cosa che fa signor mario e non accetto smentite vista la taglia va dall'ottico perché è in giro per un bel centrino commercialino e domenica il signor mario fa il corriere per qualunque non nomino niente che poi a me le cause le fanno eh per qualunque sistema di consegna va bene di delivery facciamo così e non ha il tempo eh non ce l'ha non va da nessuno quindi è domenica sono le nove e in giro per un centro commerciale entra in un posticino dove c'è scritto visita oculistica c'è scritto finitela eh c'è scritto e questo signore che è poverino che vita fa ha i secondi contatti figlio che urla la moglie che non vi dico la suocera a volte pure quindi questo signore entra lì dentro convinto che c'è un signore con una cappa bianca che ha degli strumenti che come design eh qui abbiamo anche di gente che li produce è abbastanza vicino e simile allo ct scusate signor mario che cavolo non ne sa quindi è convinto che se va lì e vede dalle tabelle ma oh sono sano mi cambieranno un paio di occhiali che spesso per una settimana eh a volte anche un po' di più può funzionare ma il signore è malato non lo sa e non si sta curando e la cosa che ha detto uno dei tanti l'onorevole sa e rispettiamo l'eccellenza del professor Midiana che ben conosco magari è diabetico e manco lo sa ecco ora se la medicina del lavoro cominciasse a far vedere un foglio a quadretti quindi io rispetto tutti la telemedicina le risorse il PNRR di quello che vi pare ma penso che un foglio a quadretti sia facile e alla portata di tutti se il lavoratore vede questi quadretti storti forse è malato off tornando al discorso se no poi Tiziana mi mette mai addosso tornando al discorso e fa peggio la Isabella ecco tornando a questo genere di discorsi se questa malattia non viene definita cronica non ci sono i permessi affinché un caregiver che anche qui la parola caregiver è abusata che non se ne può più guarda caregiver spesso è una povera signora che lavora in un bar chiaro e ha la competenza e fa il suo lavoro nel suo bar oppure povera signora lavora in una società assicurativa non ci sono più quelle macro aziende perdonate non voglio fare polemiche perché sono qui di fianco l'ILVA e l'ANSALDO quelle macro la FIAT dove chi ci lavorava godeva di permessi non ci sono e perdonate non posso nemmeno usufruirne perché la 104 non c'è per una malattia che non viene definita cronica quindi le persone sono da sole non sono assistite che cosa accade vedono meno bene e chiudo subito boh secondo che lavoro fanno mio dio spera che non succeda niente perché guarda che tanta gente guida eh io sull'autostrada sono l'Igure meglio che mi trattenga però vi dico che tanta gente guida vi dico che il povero signor anziano va a prendere nipotini e magari il poverino cade ok e poi diventa veramente un problema per quella famiglia il medico di famiglia insomma manco quasi ma ecco quindi secondo me è un grave problema sociale perdonate un problemone sociale anche comprare un collirio io ve lo garantisco un call sentence che ha messo il semacola nacque grazie all'insegnamento all'indottrinamento indelebile della Mori che è qui e non me ne frega niente e io conosco la parola gratitudine se no ce ne andiamo e e quindi sentiamo che cosa dicono ecco e perdonate se non c'è vista non c'è futuro se noi in questa sala diciamo mio dio c'è un disabile tutti cercano una una carrozzina nessuno guarda me se sono lontano dalle iniezioni e ho bisogno di un occhiale scuro succede in questa stanza succede nel mondo del lavoro e succede in quel palazzo là ho finito grazie massimo per averci eh raccontato quelle che sono le criticità no che eh si affrontano quotidianamente eh io mi permetto di eh riportare la tua richiesta eh sia all'onorevole rosso che eh satta per quanto riguarda ecco riconoscimento quanto prima di questa patologia come cronica bene ecco bella notizia per tutti noi certo perfetto grazie allora speriamo bene che venga accolta questa questa richiesta a questo punto io eh passerei la parola a dottor Scipione Rossi che è il segretario della SISO società italiana di scienze oftalmologiche allora eh quanto è importante eh per quanto riguarda la qui stiamo parlando di patologie eh cronica anche se ancora non è riconosciuta come tale patologia di agnosi quindi necessariamente significa eh fare delle cure quanto è importante è importante l'aderenza terapeutica ma soprattutto quanto conta per una migliore adesione alla terapia una eh corretta informazione e comunicazione tra il medico e il paziente. Allora eh grazie innanzitutto per aver invitato la SISO eh la SISO è la società di scienze oftalmologiche una società che diciamo ha messo eh in campo tanti eh specialisti e tante persone che si occupano proprio di questi problemi per cercare di venire incontro a tutti io in particolar modo sono un segretario della SISO e oltre a questo impegno istituzionale sono anche primario di un ospedale a Roma e eh quindi vivo eh costantemente la mia doppia dire funzione che è quella sia del far parte di una società scientifica ma anche quella di avere a che fare con i pazienti. Lasciatemi ringraziare Giovanni Satta perché veramente Giovanni Satta sta facendo un lavoro pazzesco lo sta facendo per i pazienti e per gli oculisti perché sì spesso noi diciamo oculisti sentiamo parlare tante persone che non sono oculisti di cose che riguardano noi e ci chiediamo se a volte noi parliamo troppo poco e ci chiediamo a chi appartiene l'oculistica cioè a chi possiede l'oculistica in realtà l'oculistica la posseggono gli oculisti perché tutti i giorni fanno questo lavoro e sanno perfettamente quali sono le problematiche che va a cui vanno incontro i pazienti e gli oculisti stessi quindi rispondo alla sua domanda prima dicendole quali sono le problematiche dei pazienti a proposito della corretta informazione ma voi se dopo essere andati dall'ottico e aver saputo di avere la maculopatia la maggior parte delle persone cosa fa secondo voi? Apre internet e quando apre internet è un mare magnum è una confusione pazzesca non si capisce nulla ma avete provato a scrivere maculopatie su internet? Provateci provateci e vedete cosa esce fuori di tutto e di più dall'integratore alla fotobiomodulazione al farmaco innovativo alla cura miracolosa cioè uno non capisce niente nulla a proposito di integratori 4 miliardi l'anno gli italiani spendono per gli integratori quindi se noi riuscissimo a spostare questi soldi spesi in integratori in altre cose faremmo un grande favore a tutta la medicina e soprattutto all'oculistica perché gli integratori fanno bene solo a chi li produce detto questo piccolo inciso però il paziente che sa di avere capisce di avere una maculopatia trova su internet di tutto quindi la corretta informazione cittadinanza attiva la può fare? Secondo me sì cioè la corretta informazione però comincia dai canali che le persone provano a sviluppare per avere informazioni quindi su internet quindi secondo me cittadinanza attiva potrebbe fare qualcosa per come dire avere un sito di quelli che viene premiato da i motori di ricerca per arrivare sulle prime pagine perché voi sapete che il tecnologico apre internet legge la prima pagina e poi basta e finisce spesso non si sa dove la seconda cosa la dico per gli oculisti gli oculisti e le società scientifiche e qui per questo ringrazio giovanni perché giovanni ha interpretato questo tipo di problema perché noi ne abbiamo parlato tante volte con lui e lui veramente siccome fa l'oculista e possiede l'oculistica insieme a noi fa di tutto per dare all'oculistica un impulso i medici gli oculisti vogliono curare i pazienti che hanno la maculopatia li vogliono curare ma sono troppo pochi per la quantità di lavoro viene che c'è bisogno di essere fatta non solo hanno degli stipendi che non sono adeguati mi diceva il presidente l'ordine dei medici di roma che nell'anno duemila e venti tre cinquecento medici sono emigrati dal lazio per andare a lavorare all'estero ora il lo ct quando viene diciamo fatto lo ct in un punto chi lo legge sto ct lo deve leggere un medico e questo medico oculista dovrà avere una sua collocazione anche economica quindi la cosa che la seconda cosa che dico a cd tanzantiva e finisco cercare se è possibile di far capire alle istituzioni che la cura giusta viene grazie anche al medico giusto che è ben pagato e lavora bene nel suo posto grazie mi perdoni aggiungo solo che la cura giusta avviene anche quando il medico trasferisce tutte le informazioni al proprio paziente e si mette a disposizione in ascolto verificando che il paziente abbia effettivamente capito quello che gli viene comunicato o il caregiver grazie massimo hai ragione allora adesso eh professor danilo mazzacane segretario fondazione goal gruppo oculisti ambulatoriali liberi allora eh dottor mazzacane quali sono le azioni che disegnano un adeguato percorso di diagnosi e cura che coinvolga abbiamo visto quanto è importante no il coinvolgimento di tutti gli attori affinché si possa produrre un cambiamento radicali delle attuali modalità operative per renderle uniformi su tutto il territorio nazionale buongiorno un cordiale saluto a tutti un ringraziamento particolare a roscio e cittadinanza attiva oggi è la giornata nazionale del personale sanitario socio sanitario socio assistenziale e del volontariato quindi una combinazione sicuramente piacevole io sono un oculista ambulatoriale del territorio quel territorio che tutti quanti nominano ma c'è è sempre esistito diciamo che ultimamente si vede poco però non viene mai preso in considerazione da chi gestisce la sanità cioè si parla senza spesso per territorio intendo tutti i medici convenzionati i medici medicina generale il pediatra libera scelta lo specialista ambulatoriale il medico della continuità assistenziale o guardia medica come credete no e diciamo che gol è nata per nel 2010 per far sentire la voce far capire che esistono e sono sempre esistiti adesso sono in difficoltà perché il ruolo non è più attrattivo ma neanche più ruolo dell'ospedaliero e attrattivo sì diciamo che la crisi del medico è iniziata intorno agli anni 50 60 ivan cavicchi la cantata in numerosi suoi libri e continua anche i medici diciamo ci hanno messo di loro per farsi del male ma non vado oltre la mia visione del percorso avendo avuto sia un'esperienza del territorio che ospedaliera e a 360 gradi e a tutto tondo e al di là di quelle parole che vengono pronunciate di cui si sono travissati contenuti o esagerati prevenzione screening del compagnia bella necessita sicuramente un'educazione sanitaria della popolazione con un rinnovamento culturale da parte dei medici dal punto di vista professionale per cui a scuola deve entrare l'educazione sanitaria esiste il progetto biologia con curvatura biomedica nel triennio dei licei classici e scientifici a macchia di leopardo ed è nato a reggio calabria quindi c'è poi si è sparso per la per la penisola quindi l'italia è tutta attiva non esiste soltanto il buon nord del pessimo sud e compagnia bella necessita sicuramente una buona comunicazione è una buona informazione tramite tutti i canali forse quelli social sono i peggiori esiste sicuramente la necessità di diffondere di diffusamente il test di hamsner in maniera da mettere coloro a cui si rivolge chi ha il problema nelle condizioni di poter prescrivere con appropriatezza e indirizzare adeguatamente e non è difficile necessita una cultura del paziente e del caregiver per i medici è importante che venga rivisto l'aggiornamento professionale e la formazione con un criterio di multidisciplinarietà è quello che è stato detto a proposito del diabete nella conferma quindi tutte le figure sanitarie in particolare se anche i pazienti caregiver per i medici sicuramente la forma migliore dovrebbe essere la formazione sul campo ma bisogna avere tempo per farla ne abbiamo bisogno di un investimento il pnrr ci offre dirige sanitaria ma noi abbiamo bisogno non solo di personale abbiamo bisogno di strumentazione e di mezzi di comunicazione quindi una rete informatica efficace la telemedicina telemedicina ha una risorsa sicuramente valida e necessaria la telecooperazione ci può permettere il trasferimento come è stato detto dal professor medena in maniera magistrale delle foto del fondo dell'occhio delle occhi a col supporto dell'intelligenza artificiale ma sicuramente con una supervisione secondo me sempre da parte di un oculista importante il teleconsulto teleconsulto fra i medici del territorio e medici dell'ospedale tra lo specialista ambulatoriale oculista del territorio ed il collega dell'ospedale senza sovrapposizione bisogna fare squadra e forse è la cosa che noi medici dobbiamo imparare e non abbiamo ancora capito importante dal punto di vista del percorso la realizzazione delle reti oftalmologiche con un polo territoriale e un polo ospedaliero con dei budget assegnati ben definiti in maniera che uno non rubi soldi all'altro perché il territorio finito sempre per fare la parte della della cenerentola e trasformare dalla carta in pratica quei percorsi di agnostico terapeutici assistenziali di cui tanto si è parlato da tanti anni fascicolo sanitario si dice tanto ma poco si fa a livello del territorio bisogna coinvolgere i medici di medicina generale ma non maltrattandoli non c'è nessuno c'è più nessuno che vuole fare il medico di medicina generale non so se i pazienti se ne sono resi conto quindi continuare a denigrare attaccarli è un autogol a mio modo di vedere il medico in medicina generale deve essere formato adeguatamente perché deve avere a disposizione il il la conoscenza della proprietà prescrittiva con le priorità di accesso dovute rivolgerci allo specialista ambulatoriale del territorio che deve avere gli strumenti adeguati la fundus camera e lo ct per arrivare a una pronta diagnosi a livello del diabete dobbiamo sicuramente allearci e contare sulla collaborazione con il diabetologo può fare lui le foto del fondus con intelligenza artificiale la supervisione del dello medico oculista quale si può rivolgere ma abbiamo bisogno di agende dedicate non possiamo lasciare agli amministrativi il compito di gestire la sanità cioè il medico deve rimboccarsi le maniche deve messere in condizione deve essere l'organizzatore del lavoro abbiamo queste agende dedicate che ci possono permettere di spostare il paziente da un posto all'altro con immediatezza a seconda delle necessità e quindi già un lavoro di screening del della delle liste d'attesa con criterio che porta le persone che hanno bisogno al posto giusto nel momento giusto e quindi poter arrivare eccellermente a una pronta diagnosi adeguata terapia l'ospedale è un polo importante dedicato soprattutto alla chirurgia è importante la sua funzione del teleconsulto e il posto dove dovevano essere inviati sempre con la gente dedicata ai percorsi previdenziali i pazienti per i casi più complessi perché c'è sempre qualcuno che ne sa di più e chi ne vede di più ne sa sicuramente di più le terapie dove devono essere fatte questa terapia in ospedale sul territorio se sposiamo la medicina di prossimità possiamo dire che le iniezioni intravitriali possono essere eseguite sul territorio abbiamo le clean rooms care all'amico ligustro e sicuramente abbiamo un risparmio di spesa non indifferente e una efficacia non indifferente per quanto riguarda l'aderenza terapeutica del paziente che si perde poi per strada che non sa più dove andare poi arriva dall'oculista ambulatoriale perché vuole gli occhiali ma la retina non c'è più quindi non esistono occhiali e i farmaci i farmaci e l'evoluzione tecnologica non soltanto dal punto di vista della strumentazione diagnostica anche da quella farmaceutica ci ha portato ad avere a disposizione dei farmaci con un'efficacia di prolungata non riusciamo a fare anche ogni ogni mese un'inizione intravitriale anche di un farmaco miracoloso se abbiamo la possibilità di avere dei farmaci che hanno un effetto prolungato di 3 4 mesi anche da un punto di vista organizzativo di che per organizzare il lavoro degli oculisti è sicuramente più semplice bisogna mettere mano alla nota 98 caro giovanni e ne ho sentito parlare molto poco recentemente questa nota 98 anche in base a quello che c'è sulla roadmap c'è un risparmio economico non è indifferente se ricordo bene si parlava di 60 mila euro del costo che scende a 24 mila e non è poco quindi possiamo permettere di curare adeguatamente spendendo bene i soldi la tariffazione frammentata bisogna stabilire una tariffa mio modo di vedere qui il compito dell'aifa la tariffa del percorso non spezzettata il costo del farmaco la visita di follow up la visita in ospedale compagna vera bisogna stabilire un una tariffa di percorso che possibilmente dovrebbe essere uguale in tutta l'italia senza fare figli e figli astri e il follow up anche questo deve essere condotto sul territorio con agente dedicate ambulatori dedicati non gli ambulatori di oftalmologia generale dove c'è dentro di tutto e sempre con il collegamento con la teleconsulto col medico ospedale e ospedaliero concludo con una nota che potrebbe essere positiva e spero che questi buoni propositi possono avere le gambe per poter andare avanti percorsi di questo genere quindi con una retina medica sviluppata a livello del territorio può permettere di portare sul territorio degli oculisti che sono disinteressati di quello che si fa sul territorio e quindi una attrattiva affinché i giovani colleghi che sono sicuramente bravi e ben preparati possono trovare spazio sul territorio italiano piuttosto che all'estero grazie grazie dottor mazzacane allora accogliamo questo questo appello speriamo si possa realizzare ovviamente non ci siamo dimenticati di coloro che sono collegati e quindi eh darei la parola ad Assia Andrao il presidente retina Italia ODB Assia ci senti? Sì vi sento e spero che voi sentiate me Sì benissimo grazie per aver atteso così silente Silente allora eh volevo eh chiederti eh dal vostro punto dal tuo punto di vista no quindi come associazione di pazienti quanto è importante l'informazione e la consapevolezza sulla patologia per le persone che sono affette proprio da maculopatia nonché dei loro familiari e caregiver quando ci sono Sì intanto grazie per l'invito e mi complimento per questo lavoro fatto della 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 che avete presentato oggi è vero che siamo abbiamo collaborato tutti ma insomma eh il vostro impegno perché questo progetto venisse realizzato è stato già detto molto sull'informazione però ehm io credo che dobbiamo allargarla molto non soltanto ai nostri pazienti credo che la conoscenza da parte della popolazione tutta di queste patologie aiuta quindi ad incentivare la prevenzione a porre l'attenzione a quei segnali come come aveva detto qualcuno indicativi della patologia che oggi spesso vengono sottovalutati e ancora oggi eh sappiamo che la non conoscenza di queste patologie porta a valutare ogni problema della vista ehm risolvibile o con gli occhiali o forse c'è una cataratta e quindi c'è bisogno di una di una conoscenza di un'informazione più globale l'informazione della conoscenza porta anche ad un maggior coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei cittadini e pazienti in genere nonché ripeto all'intera popolazione su queste problematiche ehm la responsabilizzazione dei caregiver e dei medici di base che è vero che le persone come hanno un sospetto vanno su internet e eh Dio me ne guardi io mi occupo anche di malattirare e non si sa bene e si perdono in questo viaggio all'interno di internet ma comunque i medici di medicina generali poi sono i primi a cui eh poi ci si rivolge quindi essere i primi a essere coinvolti e a cui si chiede secondo me di porre più attenzione come se fosse un sospetto di diagnosi è vero che devono essere preparati ed è vero che ehm hanno bisogno di più attenzione magari una considerazione migliore visto che oggi come oggi molti medici di medicina generale eh si limitano a fare le ricette e questo è un grosso problema perché effettivamente poi non c'è più il medico di medicina generale non lo vediamo più come il medico a cui rivolgersi quando abbiamo dei problemi io ritengo che l'informazione di questo genere su questi problemi su questi problemi sociali debba diventare chiamiamo lasciatemi passare il termine un patrimonio sociale l'informazione deve essere globale su tutta la popolazione perché questa possa poi identificarsi in quelli che potrebbero essere i loro problemi informazione quindi anche determinante per un percorso terapeutico consapevole è importante che arrivino le informazioni relativi alle possibilità terapeutiche che seppur non esaustive possono comunque certamente dare una prospettiva di qualità di vita migliore ehm le cure ci sono e dobbiamo far capire a queste persone che la che è un è un privilegio a volte ci sono patologie che non hanno cure e quindi quando c'è dobbiamo fare in modo che queste che tutte le persone possono accedervi e far capire ai pazienti che è un loro diritto ma è anche un privilegio avere una cura e loro devono trovare e dobbiamo tutti trovare la possibilità il sistema perché queste cure arrivino direttamente i pazienti la comprensione delle conseguenze ripeto poste dalla patologia e la consapevolezza di queste possibilità di cure può quindi facilitare quella famosa aderenza terapeutica che a volte viene a mancare molto spesso viene a mancare eh e che è uno dei dei problemi più grandi a cui ci siamo eh siamo di fronte è necessario coinvolgere il paziente e caregiver nella comprensione dell'importanza dell'aderenza terapeutica per avere maggiore efficacia del trattamento e per non vanificare il tempo dedicato i costi e e vorrei aggiungere anche mh proprio la il vedere eh l'approccio alla cura non come un impegno ma come una possibilità quindi anche il caregiver va aiutato in questa comprensione e direi che la la corretta informazione è un altro punto io noi si dice sempre una corretta informazione ma la corretta informazione non è così eh scontata spesso e volentieri c'è una una un'informazione superficiale ma è la sola arma che abbiamo per avere dei pazienti esperti consapevoli della propria situazione che che possono così essere in grado di convivere con una una patologia cronica e di saperla gestire ma che con lui il caregiver e tutta la famiglia ma vorrei riprendere un punto fondamentale che che Tiziana ha sottolineato poco fa l'informazione che il medico eh da al paziente non deve ridursi a un consenso informato ehm è un punto rilevante fondamentale e bisogna che che il medico sia certi che le informazioni che sono state date al paziente siano state effettivamente comprese acquisite da parte sua e da parte del caregiver occorre dedicare loro il tempo necessario per le dovute spiegazioni per le risposte alle loro domande ai loro dubbi solo così potremmo evitare o forse limiteremo le interruzioni terapeutiche le aspettative sbagliate e eh tutto questo che poi porta a conseguenti conseguenti problemi ehm di carattere psicologico molto gravi eh tra tra le 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 conseguenze di che si possono avere con persone con maculopatia che non hanno trovato questi percorsi che non hanno trovato o le informazioni e la comprensione da parte di del mondo che che dovrebbe farlo eh tra queste persone c'è un alto aumento di suicidi di possibili eh e possibili suicidi e questo è un altro problema che non viene mai affrontato ma che alcune statistiche ci hanno un po' eh portato a a a dover considerare io spero che ehm con il gruppo inter con il gruppo eh interparlamentare alla quale mi hanno chiesto di partecipare quindi cercherò di portare un contributo eh sostanziale e riusciremo forse veramente a portare queste informazioni questa capacità questa eh consapevolezza eh veramente come patrimonio sociale e quindi aiutare in questa maniera molto concreta le persone che si che hanno questa patologia grazie 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 assia diciamo che come organizzazioni civiche possiamo prenderci l'impegno di eh far sì che queste informazioni possano circolare il più possibile eh rispetto ai cittadini rispetto ai pazienti e ai ai caregiver e eh quando Assia parlava di tempo di cura diciamo che non diciamo nulla di nuovo ma è quanto riportato all'interno del codice deontologico che tutti i professionisti della sanità dovrebbero conoscere che in quanto la cura è il tempo già è cura eh nei confronti del del paziente. Se posso aggiungere una cosa? Io eh io ritengo che per esempio la la prima diagnosi sia sia già una terapia in itinere come viene data come viene posta la prima diagnosi al paziente e quindi con tutto quando è già una terapia in itinere o comunque una e quindi questo è importantissimo l'informazione data come prima prima nella prima diagnosi è fondamentale. È una cosa che mi combatto ormai da venticinque anni ma che ancora non abbiamo avuto le risoluzioni dovute e spero di arrivarci. Grazie. Scusate. No tranquilla grazie a te anzi. Allora adesso io passerei la parola al dottor Luca Menabuoni referenti per il rapporto con le istituzioni AIMO Associazione Italiana Medici Oculisti. Allora dottora abbiamo parlato di eh telemedicina e quindi di teleconsulto. La sanità digitale rappresentano o possono rappresentare un valido supporto per consentire una diagnosi e un monitoraggio a distanza dei pazienti con maculopatia? Grazie, grazie dell'invito, grazie a cittadinanza attiva, grazie a Roche, grazie alla presenza di onorevoli e senatori, grazie Giovanni. E rappresento AIMO, appunto Associazione Italiana Medici Oculisti, sono stato il presidente dei due mandati precedenti e adesso sono qui a portare i saluti di Alessandra Ballestrazi, il nostro presidente che purtroppo per impegni suoi non può essere qua e io parlerò in nome suo. Abbiamo sentito tante cose, è ovvio, parto dalla fine ma ci ritornerò dopo, che la telemedicina e il teleconsulto possano essere veramente qualcosa che è un valore aggiunto per la nostra specialità e per la nostra diagnosi, per la prevenzione, ma siamo in Italia, abbiamo pochi soldi, abbiamo visto come i DRG sono stati contratti per la cataratta, 800 euro per varie regioni, 660 per la Toscana, non si rientra nemmeno a fare un minimo di intervento, figuriamoci se c'è la possibilità di avere una prestazione adeguata. Mi sembra che per il medico ogni volta che fa una puntura ci siano 14 euro per il DRG o qualcosa del genere, quindi cifre veramente ridicoli, non abbiamo soldi, quindi torniamo alla realtà. Abbiamo discusso durante il Covid tanto e a lungo con federanziani, interrogando tutte le 20 regioni con gli assessori alla sanità, con l'assessore alla salute e abbiamo innanzitutto avuto di fronte 20 realtà diverse, perché ogni regione ha uno Stato in Italia, quindi quando parli purtroppo con la regione Sicilia, con la regione Toscana, con la regione Marche, sono tutte realtà differenti e ognuna affronta il discorso in una maniera personale, già questo è un qualcosa che io prego davvero con questo disegno di legge che Giovanni sta portando avanti di riuscire a chiarire e a chiudere questo argomento. Ma un argomento fondamentale comunque per avere una diagnosi precoce o perlomeno indirizzare una diagnosi precoce è un fatto che va stressato. Ne ha parlato Ligusto prima, ne ha accennato Mazzacane e noi abbiamo la possibilità davvero di avere questo schermo di Hansler che è un reticolo di 10 cm per 10 con un punto nel mezzo fatto con delle linee che si intersecano un foglio a quadretti e non dovremmo questo foglio metterlo solo come diceva lui nell'ambiente di lavoro, ma come si accennava, andrebbe messo ovunque e non costa niente. Negli autobus, come c'è la pubblicità del supermercato S lunga? Come? Non ci siamo riusciti. È così banale. Io ho cercato disperatamente con tutti l'assessore della salute di far capire, sì va bene, ma Mazzacane ci vuole l'assessore della salute, non ci vuole Mazzacane, ci vuole il decisore, capito? Sì, ci vuole il decisore finale. Se il decisore non tira fuori i quattrini, che poi sono pochi per mettere questo benedetto schermo di Hansler, che non deve essere riferito poi al datore di lavoro, si va dal medico. E qui un altro fatto stressante, in maniera consapevole. Se c'è una distorsione va dal medico, si va da quello con la cappa bianca. Voglio sottolineare questo fatto. Ne ho parlato a lungo con il viceministro della salute, che era un collega, del precedente governo. Sono stato quasi preso per quello strano, come mi dice Scipio, perché questa cappa bianca, se noi la riuscissimo davvero a riportare solo all'ambiente sanitario, ai medici, non ci sarebbe la confusione in cui ha incappato lui. Ha trovato quello con la cappa bianca. La cappa bianca, come si viene definita dalle istituzioni, è patrimonio dei medici. Ci vorrebbe poco a far sì che questa cappa bianca fosse la nostra divisa, e solo la nostra divisa. Ci vorrebbe poco e niente a mettere questi reticoli dieci per dieci in ogni dove, perché è una spesa che si contiene con questi DRG così banali. E quindi potremmo veramente, già con questi due provvedimenti a costo zero, riuscire a parlare di prevenzione. Non ci sarebbe più l'errore che lui mi va dall'ottimo e gli fa l'autorifrattometro e gli crede sia un OCT, e invece quando questo paziente che ha la distorsione va dal medico. Per gli OCT, gli OCT che sono la base per la telemedicina, per il teleconsulto, eravamo riusciti a, con Messina che era il presidente di Federanziani, ora non lo sento più, non so più che fine abbia fatto, quindi ho un po' perso i contatti con Federanziani, eravamo riusciti, come? Eravamo riusciti, ecco non lo sento più, l'ho perso, ero un amico ma non lo sento più, eravamo riusciti ad avere dei contratti per cui l'OCT si poteva pagare a scatto, cioè noi potevamo noleggiare l'OCT e in base a quanti ne venivano fatti, così da non gravare in maniera prepotente sulle risorse sanitarie. Ecco, quando noi fossimo riusciti a fare questi tre passaggi, allora potremmo passare a tutto il resto che ci ha detto Danilo prima, teleconsulto, liste dedicate, compagnia bella, ma questo è uno step successivo, forse oggi utopistico, perché i soldi non ci sono, questa è la realtà. Grazie. Grazie a lei. Allora, abbiamo in collegamento ancora il professor Francesco Bandello, Presidente Associazione Pazienti Malattie Oculari. Ci sente? Ah, un'altra cosa, finalmente arriveranno le linee guida, linee guida che Aimo ha scritto in collaborazione con SISO e già questo metterà un punto fermo, almeno sulle procedure intrapertiche. Quindi speriamo nei prossimi 15 giorni, quindi al congresso AICET che organizza il scipio, o se non ce la faremo al congresso SISO di aprile. Ma sono cinque anni di duro lavoro perché i farmaci sono cambiati, sono arrivati bioderivati, quindi è stato veramente faticoso, tanti intoppi cinque anni di lavoro, ma ci siamo per le linee guida. Scusate questa… Prego, così quando verranno pubblicate avremo modo di vederle. Dottor Bandello… Ok, perfetto. Allora, capisco che da remoto non è facile ascoltare e seguire tutti i lavori. Allora, a questo punto noi con il professor Bandello sarebbe l'ultimo intervento dei relatori e quindi di coloro che hanno lavorato insieme a noi per la realizzazione di questa roadmap. E' previsto la possibilità di fare qualche domanda dal pubblico oppure se i nostri relatori… Ecco, prego. Giusto perché so per certo che ne aveva parlato il professor Bandello e quindi mi faccio… Lo anticipa. Lo anticipo nel caso in cui non riuscisse a collegarsi perché come giustamente ha precisato Daniele Mazzacane c'è un problema aperto che è la nota 98. Ora in realtà questo è un problema a cui stiamo cercando, non senza fatica, di mettere mano perché come molti di voi sanno e chi non lo sa, lo dico adesso, il Ministro ha organizzato un tavolo tecnico ministeriale dove vi partecipa il professor Bandello, il sottoscritto, il dottor Sbordone e il professor Reibaldi, insieme al direttore generale del Ministero della Salute e al professor Rasi che è diciamo ex direttore di EMA per cui insomma veramente persona molto competente. Abbiamo fatto una proposta e abbiamo avuto l'avvallo del Ministero per cui arriviamo diciamo con un endorsement veramente molto importante e adesso stavamo aspettando giusto il rinnovo che è avvenuto in questi giorni di AIFA per poterlo portare in AIFA. Io so già che il professor Bandello ha sentito il presidente Palù che è molto sensibile a questo tema, questo argomento e il professor Palù si è dimostrato veramente molto disponibile perché anche lui ha fatto suo almeno come personalmente quello che noi abbiamo proposto, adesso aspettiamo che diciamo di portare formalmente nell'ambito della nuova commissione queste nostre modifiche in AIFA se non addirittura aspettiamo che perché è anche questa la voce che tutte le note vengano abolite per poi porre diciamo una così una rivalutazione generale che parta dalle società scientifiche perché qui abbiamo Siso e Aimo che sono le due principali società scientifiche che raggruppano tutti gli oculisti e non vedo perché AIFA non debba chiedere agli oculisti come vogliono portare avanti determinate istanze poi insieme si decide su cosa e su come lavorare. Grazie. Allora grazie professor Nicolò nella nell'attesa che il professor Bandello si ricolleghi perché forse ha un problema di connessione allora noi abbiamo invitato anche alla alla presentazione di questa roadmap anche alcuni rappresentanti della regione Lazio che sono qui presenti e che volevo ringraziare abbiamo l'avvocato Civita di Russo la dottoressa Chiara Marinacci e il dottor Romeo quindi questo per dimostrare che oltre alle istituzioni nazionali ci confrontiamo proviamo a confrontarci sempre anche con le istituzioni regionali perché sappiamo quanto è importante poi che la medicina che le cure arrivino direttamente al al cittadino lì dove vive quindi intanto li ringraziamo per aver accolto il nostro invito e qualora volessero intervenire siamo a disposizione nel frattempo estendo anche l'invito a chiunque voglia fare qualche domanda ai nostri graditi ospiti ehm così passiamo insomma il il microfono certo buongiorno io sono Civita di Russo sono vice capo di gabinetto della regione Lazio e volevo portare i saluti del nostro presidente del presidente Francesco Rocca e come sapete è anche colui che ha la delega della sanità nella regione e non è un caso che noi siamo qui e questo lo devo certamente al nostro caro amico Ligustro che ho chiaramente incontrato una mattina ad un convegno proprio nel giorno eh che dove si dice il 25 maggio no io era e c'eravamo da poco c'eravamo da poco insediati e quindi andavo lì in sostituzione del nostro presidente e quindi a quel punto abbiamo iniziato a parlare di maculopatia abbiamo fatto diversi incontri poi in regione assolutamente è chiaro noi abbiamo una sensibilizzazione particolare insomma su questo ormai lo 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 conosciamo ce ne ha parlato benissimo Ligustro ci stiamo lavorando evidentemente sappiamo l'importanza in pratica di della prevenzione che è la cosa forse più importante abbiamo capito in tutto questo che la prevenzione è la cosa più importante stiamo lavorando a diverse sfaccettature noi della prevenzione stiamo lavorando le liste d'attesa cioè tutte le problematiche che voi oggi avete messo sul tavolo ovviamente per quanto riguarda la maculopatia sono tutte eh cose che noi già stiamo a cui stiamo lavorando e stiamo studiando anche per altre malattie croniche importanti e tutto il resto quindi volevo solo dirvi che la regione c'è e la nostra presenza qui del dottor Romeo della dottoressa Marinacci nell'esempio insomma nell'esempio lampante non c'è disinteresse ma c'è un grande interesse per cui spero di poter camminare tutti insieme verso la risoluzione effettiva di questo problema grazie grazie allora eh ringraziamo l'avvocato e eh ringraziamo anche della sensibilità che eh c'è eh rispetto a questa patologia ma soprattutto rispetto a a tutte le patologie croniche rare per provare a facilitare la vita delle delle persone prego massimo scusa se ti interrompo ma eh ho assoluto bisogno di puntualizzare e chiarire una cosa insieme al prof Nicolò che è qui accanto abbiamo fatto delle cose nella nostra regione perdona prime innovative essenziali Liguria per chi non lo sapesse parla della Liguria se non so il gabibbo non c'ho il guscio ma l'accento è quello quindi so io eh eh e una di queste iniziative fondamentali è stata una cosa che si chiama testa alla vista che vuol dire avere un link di un sito dove sono previste delle condizioni di stress dell'occhio e eh proprio dalla regione Liguria e poi è successo anche in regione Lombardia eh purtroppo con meno fan eh è stato mandato questo link quindi non costa niente anche la parola costi perdonate va un po' levata sono finte complicazioni ci sono ma sono finte complicazioni è proprio la regione Liguria il comune di Genova prima per ragioni di conoscenze così di territorio mandò a tutti i suoi dipendenti il link di questo sito nel quale si fanno poi magari se vuole lo spiego meglio si fanno si fa un test sommario per vedere se esistono dei problemi di vista ecco questo non costa niente capite basta non costa niente vuol dire solamente trovare dei soggetti sensibili a livello mentale a quello che gli dico io devo ringraziare i soggetti della regione Lazio che sono qui perché perdonate a differenza di altri soggetti che si sono perduti nel tempo perduti eh la regione Lazio ha visto per forza è un ente pubblico che arriva uno dal gelo ma cosa mi fa fare ha visto quanto abbiamo realizzato in regione Liguria e un pochettino ripeto un pochettino in regione Lombardia e ha detto ok ci interessa le parliamo cominciamo a vedere ecco vuol dire mandare un link se quello che stiamo facendo qui stamattina lo facessimo e perdonate io approvo il ministero dei trasporti della motorizzazione la standardizzazione della politica la patente a punti uguale da Palermo Massondrio il fascicolo del paziente non c'è beh non sono del tutto scemo sono un cittadino un po' sfortunato ma non sono del tutto scemo ecco questa standardizzazione nel mondo della medicina e della regione non c'è bene almeno cominciamo a mandare questi link e pensate cosa accadrebbe se qui facessimo una conferenza stampa qui o in un'altra sede con il supporto delle istituzioni e mandassimo a tutte le persone del Lazio la possibilità di fare questo test basta inviare un link fine scusate ma volevo spiegarlo grazie grazie Massimo c'è qualcuno che vuole fare una domanda un'osservazione un nulla certo riprendendo quello che ha espresso Massimo Rigustro dell'importanza della considerazione della patologia cronica come medico devo dire che la scienza medica ha fatto dei passi da gigante e quindi non abbiamo soltanto delle malattie croniche invalidanti in campo oculare come la maculopatia come il glaucoma abbiamo anche le patologie tumorali tante patologie tumorali che da acute sono diventate croniche e permettetemi il percorso del maculopatico con iniezioni intravitriali non è molto diverso da parte di rispetto al paziente oncologico e effettivamente ascoltando le problematiche del paziente le ansie del paziente il medico si rende conto che andare a fare le iniezioni intravitriali da parte del paziente un momento di ansia e quindi meno ne fa è meglio sta lui e meno c'è bisogno di psicologi che psichiatri per cui quello che si nota un po ovunque nel campo sanitario purtroppo con un'accentuazione dopo il covid ma c'era anche prima è l'eccesso di ansia da parte della gente abbiamo un disagio evidente da parte dei medici che esisteva già prima si parla di burnout e abbiamo una situazione di ansia preoccupazione da parte dei pazienti per cui va sicuramente ascoltato purtroppo tempo di comunicazione tempo di cura però poi le aziende e le regioni vogliono che le visite vengano fatte in cinque minuti perché bisogna recuperare le liste d'attesa quindi dobbiamo metterci metterci un attimo d'accordo però dobbiamo anche far sì che il paziente acquisti sia responsabilizzato paziente non deve andare dal medico per passare il tempo paziente deve andare nel luogo una volta andavo c'erano le cooperative una volta le donne andavano in chiesa la mattina adesso le chiese sono deserte sono tutti quanti alle sette e mezza nelle sale di attese dei poliambulatori territoriali dell'ospedale e quindi bisogna sicuramente responsabilizzare ed educare anche i cittadini ho parlato prima di rinnovamento culturale da parte dei medici è sicuramente fondamentale però anche un'educazione che deve partire dalla scuola si parla di educazione sanitaria perché i bambini sono delle spugne e portano a casa tutti sono loro a educare i genitori perché noi ai genitori non ci arriviamo allora grazie grazie danilo allora permettimi però i cittadini o i pazienti non vanno dal medico perché devono perdere tempo non sanno che fare purtroppo i bisogni di salute ci sono e le risposte a questi bisogni spesso non ci sono quindi si è un po' invertito questo ruolo c'è più non c'è risposta più aumenta la domanda no la legge vecchissima della domanda e dell'offerta quindi va benissimo tutto l'educazione alla saluta mi riferivo agli accessi al pronto soccorso io ho 68 anni ma come tanti di voi che mi cari mi sono vicini i nostri genitori non ci hanno mai portato a pronto soccorso con 37 e mezzo di temperatura per cui e questo probabilmente nasce da una preoccupazione da una ma lo stregone ci sono ancora adesso maghi e stregone e la terapia alternativa che viene offerta dai social e che fa parte delle fake news quindi quello che dici che richiamavo è una risponsabilizzazione cioè il cittadino deve capire deve sapere che ogni prestazione sanitaria che viene resa ha un valore il fatto di avere l'esenzione dal ticket non significa che quella prestazione non costa niente quindi bisogna avere coscienza anche di quello che costa certo grazie allora visto che non vedo domande dal pubblico io a questo punto ringrazio eh i nostri ospiti e i nostri compagni di viaggio e questo per noi è solo l'inizio solo l'inizio mi scuso con il professor bandello eh se magari eh dovuta andare via si è dovuto staccare per questioni di impegni lavorativi quindi eh ci scusiamo per non aver dato la parola prima ma non lo sapevamo di questa sua necessità di doversi staccare prima e a questo punto eh passo la parola ad analisa per eh un per le conclusioni e io vi ringrazio eh personalmente a tutti grazie grazie a tutti e grazie Tiziana per l'ottima moderazione io non voglio ripetere cose che sono già state dette ampliamente se non eh sottolineare che sicuramente per quanto riguarda cittadinanza attiva continueremo a svolgere diciamo a 360 gradi il nostro ruolo quindi come organizzazione di cittadini lavoreremo molto sulla eh educazione sull'alfabetizzazione sull'informazione ai cittadini e poi eh proveremo invece a eh collaborare a dialogare con le istituzioni affinché eh alcune cose anche quelle che oggi eh sia il senatore Satta sia l'onorevole Rosso che ringrazio ancora per la presenza ci hanno garantito diciamo prossime e sicuramente eh se non incontrano diciamo ostacoli come nessuno di noi auspica eh vicine alla alla realizzazione. Un appello volevo fare al senatore e all'onorevole quello di considerare in modo integrato anche dei provvedimenti normativi sui quali si sta lavorando. Oggi per esempio è venuto molto fuori il tema dei caregiver no? C'è una legge all'attenzione esatto sui caregiver e anche una possibilità di interpretazione un po' ristretta a nostro parere del ruolo dei caregiver come semplicemente quelli conviventi nel caso ehm di una disabilità eh gravissima legata a particolari condizioni. Invece come abbiamo sentito il tema dei caregiver è un tema molto diffuso che interessa anche persone che apparentemente possono trovarsi in una situazione meno critica come quelli appunto che assistono le persone con maculopatia. Quindi eh grazie al senatore all'onorevole eh noi metteremo a disposizione anche la nostra roadmap per ehm gli sviluppi futuri così come alla regione Lazio qui presente se vorrà prendere in esame alcuni dei suoi contenuti che sicuramente eh speriamo diciamo siano utili al al vostro lavoro. Ehm volevo fare ancora eh brevemente due considerazioni. Una eh che riguarda il tema che mi è sembrato emergesse un po' dai vostri interventi di quanto la questione delle maculopatie oltre ad essere importante in sé sia anche possa essere anche paradigmatica di un modo differente diciamo di approcciarsi alla eh al tema del percorso di cura, no? Noi di solito non usiamo questa espressione molto ehm utilizzata della presa in carico, no? Perché anche in questo caso sembra che è il paziente, il cittadino con malattia sia preso in carico, no? In modo eh quasi fosse insomma un peso per chi eh deve deve farlo. Preferiamo l'espressione percorso di cura e nel percorso di cura diciamo eh tutti quei temi di cui abbiamo parlato eh voi facevate delle proposte in merito alla revisione dell'anno 898 ad una tariffa di percorso e non di prestazione a agende dedicate che eliminino a monte la questione delle liste d'attesa perché le liste d'attesa si abbattono non soltanto aumentando a dismisura le prestazioni, no? Ma anche rendendole funzionali appunto ai percorsi di cura quindi eh accompagnando il percorso del cittadino dal momento del screening come abbiamo sentito poi al al momento della cura e al follow up della cura. Ehm quindi tante innovazioni che potrebbero essere introdotte rispetto a queste patologie potrebbero poi aprire anche fronti di innovazione per quanto riguarda altre patologie, configurare un modello di funzionamento dei percorsi di cura che mh sarebbe eh estendibile poi ad altre patologie. Prima si faceva un riferimento per esempio ad alcuni aspetti che potrebbero accomunare nella nelle modalità di somministrazione queste cure addirittura quelle oncologiche eh su base non più soltanto ospedaliera ma anche territoriale. Quindi percorsi nuovi che grazie a queste patologie potrebbero eh essere sperimentati visto che c'è un'attenzione e anche un una sinergia così forte tra tra varie componenti. E l'ultimo riferimento che volevo fare è al tema della salute di comunità come sapete si parla tanto di salute di comunità se ne parla in relazione al PNRR al DM77 e a tutti i provvedimenti che saranno introdotti sappiamo anche che il percorso delle case di comunità e di tutto quello che eh è auspicabile che in linea col PNRR venga costruito richiederà dei tempi. Nel frattempo bisogna costruirla questa salute di comunità prima del duemilaventisei duemilaventisette quando auspicabilmente ci saranno in molte parti del paese non ce ne sono per nulla le prime case della comunità e quindi riferimenti come quelli che sono stati fatti in questo tavolo all'importanza di un approccio sociale ai temi eh delle patologie eh come queste all'importanza per esempio del ruolo che possono avere i luoghi di lavoro, le scuole, no? Le associazioni come le nostre che sono presenti sul territorio, tutto quello che fa la salute di comunità perché poi la salute di comunità non è fatta soltanto da edifici e mura insomma ma è fatta da tutto quello che è il tessuto comunitario della salute. Marisa scusa se ero un po' ma io prima gli esempi che vi ho fatto voi dovete tenere presente quanto diventa essenziale a seguito del continuo in alzamento dell'età lavorativa, l'acutezza visiva e il fatto di poter vedere perché perdonate si muore e non solo si fa morire qualcun altro se siamo sulla strada. Quando io vi faccio gli esempi provocatori della regione e grazie a Dio è qui o dell'azienda ma signori abbiamo l'automobile club, scusate nelle autoscuole non c'è, io e il professore qui di fianco l'abbiamo messo nei centri di revisione di Rapallo perché il centro di revisione scusate è sempre ogni due anni come la medicina del lavoro, scusate questa similitudine ma è un dato, permette e noi l'abbiamo realizzato di mandare insieme alla lettera devi presentarti perché scade la revisione la tua panda X quello che è targata e nel frattempo gli abbiamo fatto incollare il link del test alla vista perché perdonate perché quello l'ha fatto non perché sia un filantropo o un luminare come qui, no quello l'ha fatto perché se mi scade la revisione e perdo la patente quello la macchina butta via revisione a fa più. Grazie Massimo, grazie per essere ritornato su questo tema che mi è sembrato interessante anche dal tuo primo intervento. Ecco per finire io volevo sottolineare che qui di fatto è avvenuta un'alleanza a cui cittadinanza attiva è avvezza diciamo tra forze civiche e clinici e medici e operatori della sanità. Abbiamo capito che questa alleanza è necessaria anche molto nella realtà, non recuperare il tempo di cura e l'informazione condivisa con i pazienti e anche battaglie comuni per esempio quella per l'approvazione e l'aggiornamento dell'EA che ancora una volta in questi giorni rivediamo messa in discussione. Ecco questo per noi è un tema molto sensibile guardo soprattutto Tiziana insomma che se ne è occupata tanto con il nostro coordinamento delle associazioni dei malati cronici. Diciamo recuperare la centralità di questo rapporto, di questa relazione medico-paziente, medico-cittadino per noi è fondamentale ed anche poi è il criterio con cui organizziamo e proviamo a governare insomma occasioni di incontro come questa. Io ringrazio ancora tutti e soprattutto di essere stati presenti fino alla fine di questo appuntamento e la strada è ancora tutta da costruire perché queste 16 tappe vanno realizzate una ad una ma ce la metteremo tutta tutti insieme. Grazie mille. Grazie mille.